Ciao Piergui, come va? Vabbè, senti, sto pensando all'esame di latino. C'è scritto sul regolamento che non possono essere usati gli auricolari. Io l'ho pensato alle cuffie, guarda un po' così. Dici che mi fanno storie? Al limito di dico che sto ascoltando della musica rilassante. Cosa dici? Eh, ma Sanso, così mi sembra un po' troppo evidente, eh? Vabbè, evidente, scusa. Vabbè, allora aspetta, guarda, mi metto questo. Ah, così non si vedono, scusa, eh? Dico che c'ho mal d'orecchia, dico che male che c'ho. Tanto non si vede. Tu ti metti nel bagno lì vicino e mi mandi le paroline dolci. Quanto dici nel Bluetooth? Ma guarda che quel giorno lì possono entrare solo quelli che fanno l'esame. Mi fermano giù ai bidelli. Ma va, Piergui, figurati. All'ingresso c'è Chantallina, eh? Non se ne accorge di meno quella lì. Non so neanche chi è che fa l'esame e chi non lo fa. Tu ti metti là con le tue paginette, mi dici le cosine, secondo me va bene così. Proviamo, Piergui. Poi al limite, eh, non va.